Questo è il pensierino delle venti, l'abbiamo scopp... l'abbiamo... Scampata! Scampata! L'abbiamo scoppitata bene con il cacciatore, con la gamba dovevo indovinare il nord-est e ovest ecc... L'orario, l'orario! L'orario! L'ho indovinato anche l'orario! Mezzogiorno e un quarto! Mezzogiorno e un quarto! Pertanto... Buon appetito! Buon appetito! E andiamo avianti! Avianti? Quanto è che ora fai in realtà? Sono le otto! E anch'io! Un cacciatore! Un cacciatore! Perché mi hai sanno affonato? Eh beh, nella buca! Nella buca! Ah, infatti c'è la luce rossa in testa! Corri! Corri! Non possiamo, abbiamo superato queste cose! Corri! Vai giugas! Vai! Ma sei boccavo! Che c***o! Lentamente, su! Vedi qualcosa? Descrivi cosa vedi? Non c'è niente, oh! No, sì, descrivi tipo ci sono alberi... Ma ci sono alberi, c'è... Licheni! Licheni! Muschi! Zanzare muschetto! Dappertutto! Certo! Zanzare c'è la luce! Eccan! Oh! C***o! Che succede? Oh! Ma ci stiamo in pace, pure... Ai! Merca miseria... 度ica... Per cui c'è... Lo scurario di S 54ile del 40% Paqui con entrambi ha anch'ho la città